Conosco il tuo dolore, ma non è questa la via. Non è né morte, né vendetta quello che cerchi. Cosa cerco? Cerchi l'amore. Amore. Perché dovrei cercare l'amore? Perché è la sola cosa che tutti vogliamo. Come osi voltarmi le spalle? Hai vinto, Gor. Perché passare i miei ultimi istanti con te se posso stare con lei? Io scelgo l'amore. Puoi farlo anche tu, puoi riportarla da te. Esprimi il tuo desiderio. Noi. 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 Sto morendo. E non avrebbe nessuno. Rimarrebbe sola. Non sarà sola. Non sarà sola. Non. 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 quando ho preso in mano quel martello. È come se avessi acquisito una seconda vita e ti è stata... magica. Niente male per un essere umano. Niente male per un Dio. Credo di aver trovato la mia frase d'effetto. Ah sì? Quale sarebbe? È perfetta. È la migliore. Grazie. Tieni il tuo cuore aperto. Ah, ti amo. Anch'io ti amo. Tieni il tuo cuore. Grazie a tutti.